Buongiorno mia cara e ricordata, amica, ammiratissima Maria Chiara, tanti auguri in questo giorno del tuo compleanno, spero che verranno tanti di più, tanti di più, con buona salute. Bene, io sono Enrique Pat, sono amico, caro amico di Rosetta Pizzo, la tua cara collega, abitati a Venezia, tutti e due, e io ti ricordo con grande piacere e nostalgia all'anno 1973 quando tu cantavi con il mio maestro Alfredo Kraut, a Trieste, la Manon de Massenet, e giorni dopo a Napoli, la Traviata, anche con il maestro Kraut e con il grandissimo Renato Brusson, ti ricordi? Bene, ci sono passati tanti anni, ero molto giovane io, 23 anni soltanto, e aveva una grandissima admirazione per te, come no per Alfredo, e questo ricordo rimane qui, rimane qui per sempre. Bene, sono passati gli anni, adesso ho 71 anni, 71 anni, e io voglio cantarti, per ricordare quella recita di Manon, di Manon, di Manon, di Manon, di Manon, l'aria di San Sulpice, di Le Chevalier de Guerriere. Per te. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info C'est la fin, c'est le moment suprême. C'est la fin, c'est le moment suprême. C'est la fin, c'est le moment suprême. Musique 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 Ciao